Tutto pronto per la 28esima Assemblea Congressuale Aclicolf, che si terrà a Roma dal 29 novembre al primo dicembre 2013 e che porterà al rinnovo del direttivo e della responsabile nazionale che guideranno l'Associazione per il prossimo mandato. Quello che si chiude in questi giorni è stato un quadriennio di sfide in cui la crisi ha fortemente mutato la professione di Colfe e Badanti. È Raffaella Maioni, responsabile nazionale oscente delle Aclicolf, a descrivere com'è cambiato il lavoro di cura. Assistiamo in questi anni a un profondo cambiamento anche del lavoro di cura. In questi anni, soprattutto dalla grande sanatoria del 2002, abbiamo visto come c'è stata in Italia una grande necessità di un'assistenza, di una prossimità per le famiglie da parte di persone straniere, in particolare donne, che svolgono il lavoro di assistenza familiare. Quindi il lavoro domestico abbiamo visto che non solamente in questi ultimi quattro anni, ma nell'arco di un periodo ha assunto una declinazione sociosanitaria. Un lavoro che è andato a costruirsi, a costituirsi proprio da una necessità delle famiglie italiane. Nelle nostre tesi congressuali abbiamo cercato di spiegare delle cose che abbiamo già spiegato in passato, ovvero la necessità che le famiglie siano aiutate, supportate da servizi efficienti e questo non solamente per andare incontro al lavoro di cura, al lavoro domestico, ma proprio per supportare le politiche del lavoro, le politiche di genere. Perché alla fine le famiglie italiane hanno bisogno di un supporto concreto, di servizi per i bambini, servizi per gli anziani, che possono essere erogati e sostenuti in varie forme. Una di queste forme, grazie proprio alla capacità anche delle famiglie italiane di autogestirsi, è stata proprio la via dell'assistenza alla persona attraverso quello che è stato banalmente chiamato fenomeno badanti. E quindi molti assistenti familiari riescono a supplire un vuoto della cura. Per questo noi abbiamo voluto intitolare il nostro congresso il lavoro di cura nel welfare che cambia, senza dargli anche una connotazione, ma proprio per lasciare una dimensione molto aperta, perché sta nella politica assumere delle decisioni per farlo cambiare in un modo costruttivo, in un modo positivo. Appunto, se è vero come è vero che le famiglie italiane devono essere sostenute, dobbiamo sostenere sia i datori di lavoro, sia le famiglie e quindi le nostre lavoratrici e i lavoratori domestici. Per questo nella nostra riflessione abbiamo cercato anche di porre altre due questioni. Il tema della formazione professionale per le lavoratrici domestiche, in particolare per l'assistenza alla persona, perché pensiamo che per fare questo lavoro sia necessaria una qualificazione, sia necessaria una formazione specifica appunto per svolgere tutta una serie di mansioni che non si possono improvvisare. E inoltre abbiamo inserito una riflessione più diciamo internazionale, trasnazionale, cercando di pensare anche alle famiglie di queste donne che sono rimaste nel paese di origine. Abbiamo posto molte questioni, il momento dell'assemblea congressuale sarà un momento importante all'interno del movimento per discuterne, per discuterne con le ACLI, per discuterne con esperti, con persone vicine al nostro movimento, per poter insieme proporre delle soluzioni e anche creare quella vera partecipazione che noi vorremmo da parte delle lavoratrici e dei lavoratori domestici alle ACLI Golf.